Alle ore 12 di venerdì prossimo scadranno le iscrizioni al prossimo campionato di promozione. Tra le squadre che solitamente erano partite con i favori del pronostico nelle passate stagioni, quest'anno vigia ancora un po' di incertezza sul futuro per una serie di fattori. Parliamo della Torrese Calcio e di questo argomento lo affronteremo tra poco con il direttore sportivo Antonio Angelucci che ci spiegherà alcune principali ragioni per le quali la società non si è ancora mossa e non è ancora certa l'iscrizione al prossimo campionato, vero Antonio? Sì, noi in genere avevamo da cinque anni in questa parte l'abitudine di essere forse una delle prime squadre a compilare e formalizzare l'iscrizione ai campionati. Purtroppo quest'anno per diversi fattori che sono un po' legati alla destrazione economica, un po' al discorso del nostro campo che sono ormai due anni che andiamo a giocare nella vicina scapa e un po' agli ultimi episodi che ci hanno penalizzato fortemente nella finalissima playoff ci stanno facendo riflettere più del dovuto sulla possibilità o meno di poter iscrivere la squadra al prossimo campionato. E praticamente che cosa pensi possa succedere da qui a venerdì? Da qui a venerdì noi stiamo portando avanti diversi colloqui sia con il comune per quanto riguarda i lavori del campo e sia con le forze locali, alcune forze locali che vorremmo avvicinare. Speriamo nell'arco di 24-48 ore di avere delle risposte, delle certezze e in base a quello decideremo il nostro futuro. È normale che non riscriversi al campionato sarebbe un grosso rammarico penso per tutti, per tutta la comunità e quant'altro. Però per noi che siamo abituati a partire ogni anno con l'obiettivo di mantenere tutte le promesse presi con tutti quelli che collaborano all'interno della nostra età non vorremmo ritrovarci quest'anno a venire meno degli impegni importanti. Quindi se ripartiamo dobbiamo ripartire con la consapevolezza di poter mantenere tutti gli impegni. Nel caso in cui questa certezza viene meno, siamo costretti purtroppo a fare un passo indietro. Nell'eventualità che tutto vada per il peggio, nel senso che il comune non vi darà assicurazioni, non ci saranno nuovi soci, comunque bisognerebbe anche tenere conto, secondo me, dell'anzianità, della storia di questa squadra, che ne so, fare un campionato anche se non ambizioso, comunque per onore di firma. Che ne dici? Guarda, noi le stiamo contando tutte. Non era escluso quella di poter iscriversi ugualmente in promozione facendo un campionato diverso da quello degli ultimi anni, ovvero ottenere una tranquilla salvezza. Questo è uno di quelle strade che stiamo percorrendo, un po' per ridimensionare il budget, un po' per venire un po' incontro anche alle esigenze di altri soci che non possono e non vogliono partecipare a un campionato importante per vincere. La cosa che ci dà speranza, che ci dà fiducia nel poter andare avanti è quella che constatiamo che la nostra realtà, quella di Torre Passeri, per merito di tutti è diventata un punto di riferimento. Quindi abbiamo tanti sostenitori, sia nei tifosi, sia nei giocatori che fanno parte della nostra squadra, nel spronarci e nell'andare avanti, perché tutti quanti vogliono far parte di questa società. Questo è un grande stimolo per noi, però purtroppo non basta. Per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico e dell'organigramma dei calciatori, ovviamente adesso parecchi credo si stiano già muovendo, interpellando anche altre squadre. Il mister Natale, per esempio, come siete rimasti con lui? Guarda, con lui, come con tutti quanti i ragazzi, siamo rimasti che noi entro mercoledì e giovedì li faremo sapere qualcosa. A tutti quanti abbiamo detto che si potevano sentire liberi di andare in qualunque altra parte, se lo ritenevano opportuno, però ti dico, abbiamo avuto da loro una bellissima risposta, in primis dal mister. Tutti quanti aspettano fino all'ultimo il destino della Torrese. Nessuno vuole abbandonare questa barca e tutti quanti vogliono ripartecipare con entusiasmo a questo progetto. Quindi questo è veramente una spinta forte. Anzi, io li voglio ringraziare a tutti quanti, ora non li posso elencare, però tutti quanti i giocatori mi hanno testimoniato, chi al telefono, chi con un sms, chi personalmente, la loro vicinanza. In primis pure il mister si è reso disponibile a fare qualsiasi campionato con noi, di qualsiasi natura e con qualsiasi obiettivo, purché di rimanere in questa bella famiglia che è la Torrese Carcio. Che dire Antonio, per chiudere questa intervista, vista l'amicizia che ci contraddistingue, la collaborazione da diversi anni, è quella di farvi un in bocca al lupo, sperando di rivedere ancora la gloriosa Torrese in giro per i campi d'Abruzzo. Io ti ringrazio, Peppi il lupo e dai, incrociamo le dita e speriamo fino all'ultimo di poterci stavolta in estremis iscriverci al prossimo campionato. Ce la metteremo tutta.